Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Topo Athletic Ultra Venture 3, la scarpa più amortizzata della gamma Topo Athletic, una scarpa però che ha anche un grosso grosso difetto. Ora li vediamo assieme all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito parlando del peso. Taglia 42 da uomo, questa scarpa pesa 280 grammi, nel mio 47 arriviamo ai classici 390. Peso della scarpa normale, nella media di tante altre scarpe da trail con questa amortizzazione, quindi un giusto compromesso, davvero peso normale. Iniziamo come al solito a parlare dalla suola. Qua troviamo una suola Vibram nuova, una XS Track Evo. Una suola composta da dei tasselli molto grossi, davvero tasselli forse più grossi che ho mai visto, alti 5 mm. Come potete vedere non è tutta suola la parte inferiore, ma c'è una bella parte di intersuola esposta. Questo, come sapete, a me non piace mai tantissimo. Ma come performa questa suola? A me non è piaciuta. Non è piaciuta perché in quei tratti in cui c'è bisogno di avere aderenza, faccio un esempio, raccia bagnata, ma anche roccia particolarmente liscia, tutto quello che è fango, terriccio, erba, si scivola tantissimo. Voi non immaginate quante volte io ho rischiato di scivolare con queste scarpe, davvero penso siano le scarpe più scivolose che abbia mai provato. E questo è un grande ma, naturalmente, perché comunque, avendo una suola di questo tipo, così scivolosa, gli ambiti di utilizzo si restringono molto. Mi dispiace davvero tanto, perché per il resto, adesso poi lo vedrete, la scarpa mi è piaciuta parecchio, ma questa suola non la promuovo, purtroppo. Passiamo ora a parlare dell'intersuola. Intersuola sempre in zip foam di Top Athletic, un'intersuola con il quale io mi sono trovato veramente molto molto bene. Come vi dicevo, è la scarpa più amortizzata della linea di Top Athletic, tanto che abbiamo un drop di 5 mm con l'altezza sull'avampiede di 20 e 25 mm sul tallone. Un'intersuola che mi è piaciuto molto per quanto riguarda la reattività. Pur essendo una scarpa da ultra, vi assicuro che la reattività è davvero molto molto buona. Anche se dovessimo correre qualche tratto su strada, si sente che la scarpa ci aiuta a progredire, quindi davvero buona. E soprattutto l'ammortizzazione ci permetterà di fare tantissimi chilometri. Con questa scarpa io non avrei paura a fare delle corse anche da 200 km oltre. Continuando, possiamo parlare della parte superiore iniziando dal puntale. Un puntale non troppo rigido, diciamo abbastanza nella media, però mi piace che abbia tutta una fascia in gomma che prosegue fino all'altezza del metapiede. Per quanto riguarda la Tomaya, abbiamo tutta una nuova Tomaya in mesh. Un mesh veramente molto molto traspirante. Io questa scarpa l'ho utilizzata per 200 km e vi assicuro la Tomaya ha tenuto veramente molto bene. Mi piace poi che tutta la parte traspirante continui praticamente fin quasi al tallone, quindi davvero anche utilizzata nelle giornate estive più calde questa scarpa non scalderà mai. E' una Tomaya che mi è piaciuta, davvero, mi è piaciuta molto. E continuando andiamo a parlare del tallone. Un tallone molto contenitivo, un tallone molto morbido, un tallone comunque abbastanza classico. Quando mettiamo il piede all'interno di questa scarpa e la andiamo a serrare, abbiamo proprio la sensazione di una classica scarpa da trail. Niente di rivoluzionario, ma molte volte una soluzione molto classica è anche la migliore. In questo caso, davvero, Topo Athletic ha fatto un buon lavoro. Una scarpa generale comunque abbastanza stabile. Io non ho mai avuto problemi di svergolamenti, di storte o roba del genere, quindi comunque ha una buona stabilità. E in generale, davvero, anche la parte tallonare, poi come sempre abbiamo anche la parte posteriore con i ganci per attaccare le ghette che si possono prendere sul sito di Topo, quindi... Dai, anche la parte posteriore mi ha convinto. Continuiamo a parlare poi di allacciatura e linguetta. Linguetta classicissima, davvero, la linguetta classica di qualsiasi scarpa. Funziona bene, bella imbottita, resta al suo posto, ci protegge dai lacci. Per quanto riguarda i lacci, anche loro molto classici. Sono molto spessi, veramente spessi. E forse sono un pelino troppo lunghi, perché ne avanza davvero tanto. Forse sono stati qualche centimetro in meno, sarebbe stato decisamente meglio, ma si possono tagliare senza tanti problemi. E per il resto un laccio che funziona molto bene. Poi, tutta la costruzione della scarpa, quando andiamo a serrare il piede all'interno, il piede resta veramente molto fermo. Come vi dicevo, non c'è pericolo di prendere storte. A livello di avampiedi, Topo Athletic, come sappiamo, è un brand che fa scarpe con un full shape veramente ampio. Anche in questo caso, la pianta del piede è veramente molto molto ampia. E questo può piacere, può non piacere. A me personalmente piace, dipende molto da com'è la vostra pianta del piede. Quindi, se non avete mai provato scarpe con un avampiede molto ampio, vi consiglio di andare a provarle prima di acquistarle. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste Topo Athletic Ultraventure 3. Io ve le consiglio, sì. A patto però, che andiamo a restringere il campo di utilizzo. Per intenderci, non dobbiamo andare a utilizzarle su terreni rocciosi, fangosi, dove ci potrebbe essere tanta erba bagnata, o dove ci potrebbe essere del terriccio molto friabile. Questo perché in quel caso la suola veramente non è adatta. Una scarpa del genere possiamo utilizzarla su dei single track molto corribili, su dei single track molto battuti, su strade bianche, strade di fondo valle, sentieri di questo tipo. Quindi io mi immagino gare davvero con dei sentieri magari molto ampi, molto corribili, dove il roccia non ne abbiamo. In quel caso è veramente un'ottima scarpa. Purtroppo c'è questo limite della suola, perché per il resto, come vi dicevo, la scarpa mi è piaciuta veramente tanto. Viene venduta a un prezzo ufficiale di Topo Athletic, di 190 euro. Online la si trova a qualcosa meno. Secondo me ci sta. Davvero mi spiace molto per la suola. Mi spiace molto per la suola, perché sennò sarebbe stata una scarpa, non dico perfetta, ma ci saremmo avvicinati. Letto ciao ragazzi. Io nella speranza di essere stato esauramente risostivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!